Siamo stati traditi. Tu, mia piccola, e tutti quanti noi, siamo stati traditi da quell'uomo. Siamo stati gettati via, come fossimo strumenti. No! Non è vero! Non è vero! Non può essere vero! Nulla di tutto questo può essere vero! Va tutto bene. Posso sopravvivere anche da sola. Va tutto bene, anche se sono sola. Che male! Che male! Non ne posso più! Perché il mio piccolo corpo deve per forza venire aperto ogni giorno? Sarebbe meglio se finisse. La guerra del Santo Graal deve finire. Non può avere termine. Devi rassegnarti. Dopotutto è questo il nostro dovere. Noi abbiamo un compito ben preciso. Il miracolo realizzato mille anni fa, noi siamo state create per riprodurlo. La vera magia! La salvezza degli esseri umani! Tutto questo servirà per rendere felici soltanto loro! Ma allora noi per quale ragione viviamo? Per noi non esiste affatto il concetto di felicità. Dopotutto siamo strumenti. Soltanto oggetti da sfruttare. Esatto. Siamo tutti strumenti per l'attivazione del Santo Graal. Tu sei il culmine degli Einspern. L'apice dell'arte che ci ha creato. In futuro, per quanto tempo possa passare, non verrà realizzata un'opera superiore a te. Proprio per questo, se tu dovessi venire sconfitta, si arrinderanno tutti quanti. La fabbrica che porta il nome degli Einspern terminerà la sua ricerca durata ben oltre mille anni. Sorrideranno e diranno di aver fatto del loro meglio pur non essendo approdati a nulla. Questa è una cosa assurda! Siete tutte vive, no? Allora perché mai dovete morire? A morire devo essere soltanto io che andrò a combattere! Non essere triste, bambina gentile. Non fa niente se non abbiamo valore. Non abbiamo trovato solidezza, ma saremo finalmente liberati dai nostri debiti. Devi stare tranquillo. Dovere, dovere! Soltanto dovere, basta! Cosa significa, Einspern? Non è possibile che non ci sia una sola cosa che ti appartenga realmente!